E il prossimo gruppo a salire sul palco chiamiamo i personaggi di Bonelli e Dottore in occasione dei 70 anni di dance un invito e un applauso per sul palco i personaggi di Bonelli Allora il team leader, vediamo se c'è un team leader di questo team Bonelli è lei, è il signor Zagor eccolo qua il signor Zagor vuole dire due parole? Cosa fate qui oggi a Grazzano? siamo qui per festeggiare il 70esimo anniversario di dance è sparito, l'hanno rubato gli indiani? arriva fra un'ora arriva fra un'ora, a cavallo o in diligenza? a cavallo, lo rifacciamo quindi fra un'ora come preferisce lei? no, fra un'ora parte il contest, non ce la faccio purtroppo se vuole lo facciamo a fine contest, lo ripresentiamo, va benissimo? e ringrazio perfetto